Giorgio, queste interviste sono una specie di telenovela puntate che accompagna questo tempo apocalittico. Oggi è la festa della mamma, quindi onore alle nostre mamme, la tua è vivente, la mia è andata in cielo. Comunque so che è viva e capisce tante cose più di quanto ne capisse quando era nella carne, così come anche il mio babbo. Ed ieri era il 13 maggio, anniversario della prima apparizione di Fatima, quindi è il tema di cui parleremo oggi. Fatima è il perno, il centro, l'origine di tutta questa tua odissea umana, cosmica e spirituale. Fatima è anche il centro dove la Madonna profetizza le cose che sarebbero accadute nel futuro, che oggi è diventato in parte storia, in questo momento è presente e che secondo i messaggi che tu hai ricevuto e che già ricevete Eugenio Siragusa, siamo nella parte finale. Quindi vorrei in questo incontro, anche ovviamente dietro un tuo suggerimento, ripercorrere un po' sia la storia di Fatima che la tua esperienza diretta che appunto ha origini a Fatima. Quindi vorrei partire da una frase profetica che la Madonna dice proprio quel 13 maggio del 1917 dove dice «Sono venuta a chiedervi di venire qui sei mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa ora che era mezzogiorno. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Quindi tornerò qui di nuovo una settima volta». Dove identifichi, Giorgio, questa settima volta? Perché la storia, questa settima apparizione, faccio un inciso, la leggente Lucia ha avuto tantissime apparizioni, ma nella quercia di Fatima no. Quindi questa settima apparizione, se i conti sono corretti, è la tua. Cioè la profezia che la Madonna fa quel 13 maggio si compie il 2 settembre 1989. Vorrei che tu commentassi questo aspetto qui. Allora intanto ti ringrazio. Prima di rispondere alla domanda hai detto questi incontri sono... Una specie di telenovela che accompagna questo tempo apocalittico. Ecco, io intanto esprimo un desiderio. Questi incontri sono un testamento. E quindi, visto che sei mio amico, lascio a te quando... perché io me ne andrò prima di te in un'altra dimensione, di raccontarlo e magari farai un bel libro con tutte le tue interviste che mi hai fatto. Perché questo è il testamento che voglio lasciare alle nostre arche, così, con te. Grazie. Grazie, Giorgio. Per me questo è un onore grandissimo perché se viene da te viene anche da qualcuno. Certamente, viene da questo personaggio che mi... Quindi... Mi persegue nel senso positivo. Io ho riflettuto anche su queste bellissime interviste che tra l'altro, nonostante tu sia attaccato, io pure, però di fatto riscuotono una grande onore. Soprattutto grazie a te perché sei speciale, perché sei non solo un ricercatore, sei anche un intrattenitore e spiega al popolo che non sa nella forma più semplice ma anche professionale. Poi, certo, ci sono due, tre categorie di persone, quelli che hanno la mente aperta e vogliono sapere. Poi ci sono gli ignoranti, Giordano Bruno li chiamava gli asini della fede e poi ci sono i falliti. Il fallito non in senso professionale, economico, nel senso di personalità. Siccome devi giustificare il tuo fallimento della tua incapacità di esprimere alla comunità un messaggio pensi che tutti siano falsi, tutti siano dei ciarlatari. Voglio fare un commento anche io, Giorgio, che intrattengo rapporti diciamo di scambi professionali in vari ambiti della ricerca, anche quelli non prettamente legati ai temi che trattiamo noi, cioè quelli spirituali e cosmici, ma anche del mondo geopolitico, sociale e così via e devo riconoscere che in professionisti di rilievo, perlomeno a livello nazionale, nonostante questi temi siano ritenuti da molti borderline o addirittura delle follie, però abbiamo acquisito un rispetto perché pian piano ci si rende conto comunque come la goccia che scava la roccia che queste tematiche hanno un loro senso e hanno una loro importanza per me come so anche per te sono nodali e fondamentali ma pian piano anche la società incomincia a essere permeata da questa sensazione qui esatto perché è una verità che non la può fermare nessuno nemmeno gli ignoranti la possono fermare certo come diceva Eugenio la verità si impone con l'evidenza e la forza della sua imponenza anche della sua pregnanza quindi tornando alla domanda che ti ho fatto Giorgio quindi questa settima apparizione allora io non ho mai detto una cosa del genere si è la mia deduzione da ricercatore non l'ho mai smentito chi tace consente perché non ho mai ricevuto un messaggio la settima apparizione figliolo è la tua anche per me logicamente dovrebbe essere così e comunque posso risponderti in questo modo o è questo cioè la settima apparizione è quella che è successa a me oppure apparirà a Fatima la Madonna di fronte a tutti e darà quel segno che tutto il mondo si aspetta con questa croce in cielo però non ti so rispondere certamente è logico pensare che la settima apparizione perché per quanto sono 34 anni credo che la Madonna di Fatima nel senso l'apparizione la Madre Celeste l'ho portata in giro con il suo messaggio credo a uno o due miliardi di persone senza dubbio comunque il mio Giorgio non voleva essere solo un mero computo matematico no è anche la logica spirituale è anche la logica profetica che parte dal 1917 di fatto tu sei l'unico che ha raccolto questo testimone anche Eugenio ma Eugenio non era legato a Fatima tu invece purtroppo sono l'unico che denuncia i mali del mondo che la Madonna nel messaggio di Fatima annuncia come castigli li chiamano così i bambini a quell'epoca ammonimento giustizia divina a bambini di otto anni allora la Madonna usa un linguaggio come si usa con i bambini attento che se non fai questo ti castigo e quindi la Madonna dice arriverà un castigo di Dio castigo è inteso come legge di causa ed effetto un ammonimento un segno e quindi io mi sono fatto portavoce di denunciare i mali del mondo quello che la la Madonna nel 1917 prevede profetizza compreso gli errori della Russia la Madonna dice se non vi ravvedete se non vi convertirete tutti gli errori della Russia come ammonimento di Dio ricadranno su di voi ora errore sta non tanto per la scelta politica che non mi interessa del presidente Putin quanto di una ritorsione una rappresaglia verso di noi occidente delle malefatte che abbiamo fatto quindi un aspetto usiamo una parola orientale un aspetto di rientro carmico dei delitti commessi dall'occidente perché proiettando il messaggio profetico in politica perché non puoi non farlo perché la Madonna parla di Russia America parla di rivoluzioni guerre dobbiamo parlare di politica quindi lo dobbiamo interpretare e quindi è un ciò che noi abbiamo seminato oggi lo stiamo raccogliendo e quindi qualsiasi uomo si fosse trovato oggi a dirigere come la chiamavano la Santa Madre Russia Putin sarà anche mafioso sarà il capo della mafia sarà tutto quello che volete ma se si fosse trovato un presidente democratico occidentale che ne so Aldo Moro per parlare di un personaggio martire avrebbe fatto la stessa cosa cioè avrebbe risposto con le armi a una invasione che noi lentamente da 1998 quindi quasi 25 anni mi sembra abbiamo posto in essere contro la Russia e adesso non ci sono solo presidenti ubriaconi in Russia come Yeltsin ci sono anche presidenti nazionalisti estremisti se volete comunisti o fascisti che non vogliono assolutamente essere invasi né schiacciati economicamente e militarmente e quindi dobbiamo stare attenti che questo messaggio di Fatima appunto gli errori della Russia possono fare morire miliardi di persone nel 1917 ancora si studiava l'atomo e quando la Madonna disse a Lucia e a Giacinto e ci sarà una guerra che in pochi minuti possono morire milioni di persone in pochi minuti solo le armi atomiche assolutamente e ci teneva tantissimo alla Russia pensate manco la seconda guerra mondiale era scoppiata quindi si riferiva a oggi esatto tra l'altro si è speculato alcuni detrattori che fossero invenzioni dei bambini dei tre pastorelli ma loro non sapevano manco che esistesse la Russia infatti pensavano che era una donna una signora che si comportava male non avevano capito cioè non sapevano che esisteva la Russia comunque Fatima all'epoca non era il centro importante che oggi era una zona rurale era un villaggio un villaggio poi siamo nel 1917 non c'erano mezzi di comunicazione non c'era nulla e poi il miracolo del sole l'hanno visto centomila persone purtroppo è accaduto nel 1917 nel senso umano non c'erano le telecamere ma oggi saremmo rimasti letteralmente scioccati tra l'altro Giorgio le parole della Madonna ammoniscono anche il popolo perché lei dice se i popoli non dovessero opporvi sarò costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio ecco in senso teologico trasformiamolo in un senso sociale sociopolitico o geopolitico se vuoi che significa se i popoli non dovessero opporvi sarò costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio significa questo che oggi da un anno pieno quasi tutti i giorni diciamo quattro volte su sette giorni le prime pagine del mondo ci sono minacce di guerra atomica io ero ragazzino e anche tu negli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta dissero che volevano fare una base a comiso in Italia con i missili nucleari siamo andati tutta l'Italia un milione e mezzo di persone ha portato più alla torre quindi c'era una protesta il popolo non voleva c'era partecipazione e se ne parlò una settimana poi i politici purtroppo la base la fecero lo stesso però erano accorti la gente si muoveva oggi non gliene frega niente a nessuno di morire io non vedo c'è stata una manifestazione giorni fa di 10-20 mila persone c'è poca cosa ma in nessuna città del mondo i giovani sono alla deriva lo sbaraglio tranne quei movimenti di artisti di giovani di band musicali attori questi resistono e noi ne abbiamo uno in casa con Our Voice ma i giovani nel mondo solo stanno attenti a qualche spettacolo musicale dove c'è un Roger Waters che magari accusa la guerra che comunque è un uomo di oltre 70 anni di oltre 70 anni dei Pink Floyd il fondatore glorioso tra i fondatori dei Pink Floyd e allora il popolo non sta reagendo pensa che stanno scherzando perché noi siamo in questo momento purtroppo come diceva il grande Giorgio Gabber questa tecnologia ci sta mandando alla testa è bello 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 ma noi c'è una vignetta bellissima che non so se l'ha fatta Giannelli del Corriere o un altro vignettista dove scende un alieno e tutti con i cellulari e c'è una bomba atomica che scoppia e tutti con la testa lì non si accorgono nemmeno di quello che sta succedendo e allora secondo me il popolo che cosa devo dire a un popolo che vota la destra fascista quelli che hanno assassinato i nonni e bisnonni cosa posso dire a un popolo che è materialista nessuno vuole la pace il papa è un personaggio che negli anni 80 avrebbe ricevuto il premio Nobel per la pace sarebbe stato osannato dalle folle oggi è ridicolizzato ha ricevuto Zelensky stamattina ieri perché è un capodistato ma poi gliel'ha cantata gli ha detto con le armi non si risolve nulla il minimo che poteva fare ma io penso che il popolo sarà colpito duramente dalle forze della natura quindi il braccio del figlio il braccio sono le forze della natura perché se tu guardi nel Vangelo il braccio violento cioè lascerò libero il braccio di mio figlio è la natura ve lo spiego teologicamente quando Cristo sulla barca gli apostoli se la stanno facendo addosso lui stava dormendo perché c'era la tempesta c'era la tempesta violenta era un uragano c'era una specie di mulinello quelli si sono impauriti dice ma che fai dormi ci fai morire Gesù si si sveglia e dice ma che fa ci sono io uomini di poca fede e che fa alza la mano alza il braccio destro e dice fa quattro gesti e si calma tutto quelle sono le forze della natura il braccio di Gesù sono l'acqua l'aria la terra e il fuoco i quattro cavalieri dell'apocalisse noi saremo colpiti saremo colpiti lo dico di fronte alle telecamere saremo colpiti duramente e molti perché? perché vuole svegliarci nella sofferenza io spero che nessun bambino possa soffrire manco uno ma noi adulti saremo colpiti o saremo queste con le forze della natura o saremo colpiti con una grande crisi economica noi stiamo bene magari con tutte e due magari con tutte e due ma a me piacerebbe più quella economica perché a me non piace vedere poi ovviamente decide Dio io solo ubbidisco quella economica perché mi piacerebbe vedere chi delle persone benestanti io sto bene grazie a voi fratelli e a Dio che mi ha aiutato tramite le persone però a me piacerebbe vedere chi ha il coraggio di dormire negli autogrill non si può comprare nemmeno i tuc sai i tuc ecco quello vorrei vedere nelle famiglie italiane in modo che si svegliano un po' la coscienza secondo me andremo in piazza a protestare contro la guerra se a noi ci manca da mangiare per un mesetto due mesi tre mesi penso anch'io sì oppure un bel tsunami che ci fa tenere strette quelle parti lì che chiamiamo il atb delle persone sì nella migliore delle ipotesi poi Gesù parla di terremoti carestie guerre e Gesù non è l'ultimo arrivato certo quindi questi misteriosi cavalieri dell'Apocalisse che sono appunto di cui si parla nel libro l'acqua l'arri l'arri sono le forze della natura l'acqua e il fuoco sì tutti e tre soprattutto saranno potentissimi la terra e l'acqua e il fuoco meno l'aria ma l'aria ha già fatto un bel po' con gli uragani sì questo lo diceva la madonna perché siamo indifferenti ma lo so che cosa deve succedere che fa esplodere Putin una bomba termonucleare tattica in una città dell'Ucraina dove muoiono in 20 30 secondi 150 mila persone se lui lo fa io so Pier ti devo dire una notizia da fonti i miei amici alieni lui sta discutendo con i generali perché vuole dimostrare che l'occidente se la farà addosso e lo farà se lo costringono e Zelensky si dovrà arrendere in ginocchio e noi e aspetterà la risposta nostra ma noi non muoveremo un dito Biden l'America la Francia ce la faremo addosso perché vedi la Russia e Putin non ha niente da perdere anche se muore noi abbiamo da perdere tutta la nostra ricchezza il benessere le vacanze il lavoro l'azienda la famiglia quindi noi i vizi i vizi soprattutto i traffici le nostre mafie le nostre ipocrisie il nostro benessere e quindi sappiamo che se rispondiamo moriamo tutti e allora gli diciamo vabbè visto che hai fatto così trattiamo questo succederà lui lancerà un missile nucleare su Kiev e allora lì ce la faremo addosso tutti ma noi non abbiamo il coraggio di rispondere perché noi giustamente io sono d'accordo che non dobbiamo rispondere perché noi abbiamo la vita non siamo come lui che vuole distruggere tutto quindi non dobbiamo rispondere perché se rispondiamo 7000 missili atomici russi ci pioveranno addosso tutti e se ne intercettiamo 4000 5000 2000 distruggono tutto il mondo quindi sono mesi che scriviamo anche intellettuali di andare da questo signore e trattare e fare la pace invece di stare dietro a quel pagliaccio di Zelensky perché è un pagliaccio messo in piedi diciamo che dietro Zelensky ci sono i potentati occidentali appunto è un pagliaccio oppure il giullare di corte che vogliamo fare la voce grossa e invece siamo solamente dei scriteriati senza criteri tra l'altro una notizia che forse è passata un po' nei media nazionali con questo non do ragione a Putin voglio solo spiegare stiamo facendo un'analisi teologico geopolitica della situazione attuale comunque stiamo parlando del segreto di Fatima comunque siccome mi dicono che sono amico di Putin io non sono amico di Putin però è successo questo fatto così tutti i servizi italiani domani mi vengano a cercare io sono andato in Russia e ho incontrato il colonnello Zurkin non so se tu eri con me no quando sono andato da Reschek tu eri con me no lì no ecco io sono andato mi ha accompagnato il colonnello Zurkin che è un colonnello comandante di stazione del KGB la prima due volte l'ho visto la prima volta gli dico se io voglio vedere i documenti UFO vediamo devo chiedere alle autorità ai miei superiori vabbè ci ritorno perché lì una cosa ogni tre mesi si faceva sai in Russia torno dopo due mesi allora gli dico colonnello possiamo andare in questa base dove ci sono i documenti UFO segreti del generale Rescheknikov è tutto su youtube potete andarlo a vedere anche il colonnello Zurkin però questa questa chicca non la sai e io gli dico allora ma il suo superiore gliel'ha dato il permesso sì ha visto chi è lei gli abbiamo dato il fascico lei è una brava persona ma chi è il suo superiore il mio superiore è Vladimir Putin 1997 quindi Zurkin riferiva a Putin certo e Putin ha voluto vedere il fascicolo chi è questo signore italiano e gli hanno visto che io andavo in tv che avevo le stimmate ha detto mi ha studiato era il capo del KGB Putin allora gli ha detto dategli i documenti perché lui non li venderà è una persona onesta infatti il generale poi ti ha dato i documenti il generale mi ha dato tutto c'era il servizio segreto lì che gli ha detto senza servizio segreto il generale mi faceva arrestare semmai certo assolutamente quindi a me interessava divulgare le foto degli UFO non mi interessava la politica però vedi dopo 25 anni accadono cose se un tanto mi porta tanto certo c'è un disegno c'è un disegno io non per me tutti quelli che hanno le armi atomiche sono dei pazzi Putin compreso però se devo se io fossi nato in Russia non lo so questo dobbiamo capire perché sennò le persone a casa se io fossi un intellettuario un imprenditore un cittadino un professore di università non posso dare torto al presidente certo perché la Russia è stata accerchiata o a meno che gli ignorantoni a casa pensano che non è così beh con la propaganda intensissima che si sta facendo hanno cancellato tutto quello che è accaduto prima dell'invasione dell'Ucraina ma in realtà partiamo dal 2014 quando c'è stato il colpo di Stato che ha deposto Yanukovic certo quindi è da lì quindi il messaggio di Fatima oggi è più più attuale che mai vorrei Giorgio che tu facessi un attimo una chiarificazione perché ovviamente le persone da casa fanno fatica a capire una Madonna e un Gesù che danno dei castighi cosiddetti all'umanità io vorrei che tu un attimo affrontassi l'aspetto che tutta questa logica scaturisce da un fatto di cui l'umanità ancora non è cosciente cioè che noi siamo spiriti immortali in evoluzione quindi la carne ha un suo valore ma non è il valore fondamentale è un valore relativo quindi queste punizioni queste sofferenze noi dobbiamo ragionare come ragioniamo dei cittadini onesti che rispettano la legge nelle grandi democrazie come la nostra tu devi rispettare delle regole e c'è il nostro sistema è il più garantista del mondo prima di andare in galera ti puoi divertire per tanti anni poi alla fine ci vai la stessa cosa è nella legge di Dio tu c'hai tante garanzie c'hai il perdono e ti penti e sei perdonato la misericordia ma insomma alla fine devi rispettare la legge e come ce l'abbiamo noi la polizia giudiziaria o la polizia stradale o i carabinieri speciali c'è anche loro c'è il cielo alla fine se tu fai del male una volta e ti do una pena la fai la seconda volta alla fine ti becchi l'ergastolo il cosiddetto inferno che poi è una purificazione quindi di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando che se noi vogliamo mettere a rischio la stabilità del pianeta noi faremo l'ergastolo ci arriva il castigo come si chiama? ci ci meravigliamo quando una corte un giudice dà una sentenza e dice l'imputato Totò Riina è condannato condannato a una pena cioè non stai castigando a quello? certo a una pena dell'ergastolo come lo chiami? allora noi uomini possiamo castigare Dio che è Dio non può castigare ma come? ma come Gesù? questo questa è la l'arroganza nostra cioè noi possiamo fare una legge giudicare un uomo metterlo in carcere e farlo pure morire in carcere o in altri stati addirittura a morte sì che non siamo d'accordo noi lo lasciamo morire in carcere e invece Dio no deve perdonare sempre ecco toglietevelo dalla testa poi per chi è credente la Bibbia dalla Genesi da quando Dio in sette giorni simbolici crea l'uomo fino all'ultima parola dell'Apocalisse noi credenti crediamo nel Vecchio Testamento e nel Nuovo è una successione di eventi dove ogni capitolo della Bibbia che ce ne sono tanti sono duemila pagine e non c'è un capitolo della Bibbia compreso il Vangelo gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse dove non c'è il castigo è contemplato continuamente dappertutto mi presentate un Gesù Cristo che perdona sempre ma dove? io i Vangeli li conosco quasi a memoria ma li ho anche vissuti Gesù Cristo è un accusatore e continua minacce dell'inferno per tutti pure per gli Apostoli e gli scrive ai farisei e al potere e addirittura a chi guarisce che si impietosisce Gesù Cristo e gli dice la tua fede ti assaltare non peccare più se no vai all'inferno cioè quello è Gesù Cristo che sta parlando ti accadrà di peggio Gesù Cristo il fuoco della genna se una mano è di peccato è meglio che te la tagli cioè Gesù è un più che misericordioso è uno zelota che minaccia punizioni ovvio al fratello se il fratello ti offende porgi l'altra guancia quante volte devi perdonare il fratello ma la frase fratello che significa? significa le persone della tua famiglia le persone della comunità le persone cittadini comuni ma se tu vai cioè i fratelli noi cittadini ma se tu vai contro la legge Dio ti castiga non c'è scampo a meno che non ti penti e cambi e cambi ecco allora lì sì tutti i peccati ti vengono perdonati non è che tu nel letto di morte ti penti buonasera pure il rina nel letto di morte si è pentito di tutto infatti la prima cosa che ha trovato è il carbone a spalarlo insieme a Belzebub all'inferno c'è una rispetto alle apparizioni Giorgio l'inferno non esiste comunque è un modo di purificazione prego scusa esiste la sofferenza esiste la sofferenza e la reincarnazione ma l'inferno nel senso della morte seconda ne parla Giovanni nell'Apocalisse la seconda morte ne parla Dante ne parla San Francesco la morte seconda la morte cioè il ritorno indietro dell'evoluzione dello spirito puoi spiegarla a chi ascolta lo spirito è eterno e quando tu non sei pentito e non sei cambiato e sei rimasto malvagio torni indietro nell'evoluzione e quindi farai un periodo di buio lungo dove dove mi ricordo il mio maestro Eugenio diceva dove desiderai di morire e non potrai morire nemmeno se lo desideri per quanto stai soffrendo ma poi ecco la misericordia di Dio magari dopo 700-800 milioni di anni insomma un po' di tempo ti concede il tempo di uno spritz una esatto c'è un aspetto Giorgio delle vicende di Fatima che non è tanto evidenziato ma secondo me ha un'importanza che vorrei tu commentassi i tre pastorelli prima di avere le apparizioni della Santa Madre gli appare questo angelo sì che ruolo aveva l'Arcangelo Michele perché è stato necessario che accadesse prima questa questa presenza che ci fosse questa presenza qual era lo scopo il compito che si prefiggeva all'Angelo nell'incontrarsi con i pastorelli prepararli alla grande apparizione o c'è un motivo forse più ampio certo che c'è un motivo più ampio i bambini per loro Angelo Madonna e Gesù Cristo non cambiava niente loro erano chierichetti cioè credevano credenti per tradizione l'apparizione dell'annunciatore è un messaggio ai posteri chi appariva era la madre di Cristo un essere elevatissimo nella gerarchia spirituale e per smentire tutti quei buffoni che dicono che erano alieni erano gentaglia erano alieni sì ma nel senso di essere di luce e l'Arcangelo Gabriele è colui che presenta sempre Michele in questo caso Michele va bene anche Gabriele sono annunciatori e castigatori e consolatori sette arcangeli di Dio e perché dovevamo sapere noi che quella era la Santa Mater e che era l'apparizione più importante del ventesimo e ventunesimo secolo quindi è stata preceduta l'apparizione centrale di tutte le apparizioni degli anni dal primo secolo dopo Cristo fino ad oggi fino ad oggi è l'apparizione centrale perché rivela due cose la seconda venuta di Cristo e la presenza extraterrestre ci arriviamo ok però questo è annuncia lui sta dicendo avrete un incontro come quando alla Madonna gli annuncia avrai un figlio e anche a Zaccaria avrai un figlio che si chiama quello ha avuto dubbi gli ha tagliato la lingua proprio per essere misericordioso e quello invece era l'Arcangelo Gabriele quello era l'Arcangelo Gabriele siccome hai dubitato Dio mi ha detto di mozzarti la lingua finché nasce tuo figlio c'è la faccia della misericordia di renderti muto cioè di fatto muto quindi era l'Arcangelo Michele che precede le apparizioni della Santa Madre perché il principe comunque per chiarire gli Arcangeli sono sette esseri della sesta dimensione li abbiamo chiamati noi per differenziarli ma sono tutti della stesso grado sono dei comandanti hanno funzioni apparentemente diverse di fatto diciamo Astarshaeran è comunque la figura cardine sì l'Astarshaeran è il comandante ma gli altri sono generali non sono da meno certo quindi Giorgio arriviamo a quello che stavi dicendo intanto un commento perché i due pastorelli Francesco e Giacinta muoiono quasi subito dopo le apparizioni e rimane solo la veggente Lucia perché si dovevano reincarnare subito questo muoiono subito dopo 40 anni si sono reincarnati cioè subito cioè dovevano essere di nuovo protagonisti dello svolgimento degli eventi protagonista di quella apparezione è Lucia che è morta a 150 anni ma nel futuro protagonisti dello svolgimento della manifestazione profetica del ventesimo ventunesimo secolo e quei due quei due pastorelli devono testimoniare certo sono rinati per testimoniare e stanno testimoniando tutto stanno testimoniando Fatima la seconda venuta di Gesù Lucia è rimasta perché doveva svelare il segreto la Madonna l'ha fatta vivere fino a quasi cent'anni perché doveva svelare il segreto di Fatima e non l'ha fatto ovviamente io non giudico ma sta facendo dichiarazioni al magistrato di turno della Corte Celeste del perché in cent'anni non l'ha voluto fare si ha dato cenni segnali però di fatto non mi piacciono queste apparizioni Pier io ho cercato tutti i veggenti io non credo più in nessuna apparizione a meno che il veggente non denuncia i mali del mondo se no sono chiacchiere è distintivo diceva Al Capone chiacchiere è distintivo certo che credo la presenza della Madonna a Međugorje a Lourdes che lei apparsa non c'è dubbio non credo nei nei suoi rappresentanti non mi fare la domanda perché li sceglie perché io non discuto le scelte del cielo però i rappresentanti tutti tra quasi tutti sono venduti corrotti non lo so perché fa così non hanno saputo tenere fede alla promessa cioè non lo so teologicamente lo so non lo so perché rispondono così lo so perché ogni persona che vive queste esperienze mistiche è il tentatore subito ma vedi il tentatore non è che ti tenta perché te ne vai a donne o uomini o perché diventi un alcolizzato o diventi un diciamo uno che ti piace la vita mondana ti tenta nel non dire quello che devi dire nel tacere nel tacere o dire pregate 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 e preghiamo da 2000 anni e da 2023 anni e le cose sono peggiorate quindi se io devo essere l'avvocato del diavolo se abbiamo pregato per 2000 anni e le cose sono peggiorate allora non era una preghiera bella è meglio che non preghiamo più magari migliorano invece la preghiera è necessaria ma era una provocazione quindi quando la madonna usa il termine anche Cristo ravvedimento non stiamo parlando di qualcosa di religioso stiamo parlando di uno stile di vita assolutamente di religioso spirituale che deve essere posto nella vita quotidiana cioè noi non viviamo in pace nel mondo ragazzi qua non stiamo parlando di peccati o difetti umani qua stiamo parlando di genocidi stiamo parlando di droga venduta a fiumi in tutte le città più ricche del mondo stiamo parlando di perversioni stiamo parlando di arbor la gente ammazza i figli e gode ha degli orgasmi capisci in America la grande America libera bella senza burocrazie per entrare a scuola tu devi entrare attraverso il metal detector perché adesso sparano in continuazione vendono 300 milioni di pistole all'anno ma insomma ma ci stiamo rendendo conto di quello che sta succedendo oltre a tutti i paesi che ci sono in guerra quindi quindi ripeto siamo a rischio di castigo di Dio castigo di Dio terza volta castigo di Dio Giorgio questa frase è in quel tempo seconda metà del ventesimo secolo esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio questo me lo sono inventato io ho detto che c'era nel terzo segreto di Fatima te lo sei inventato tu sì me lo sono inventato io invece l'ha detto la Madonna però tutti dicono che non me lo sono inventato io però quando scenderanno questi esseri e diranno noi conosciamo questa celeste signora tutti devono chiedere scusa in ginocchio perché se no non li perdono quindi la Santa Madre scusa le battute che faccio la Santa Madre annuncia l'era cosmica a Fatima certo annuncia il contatto tra noi e l'universo ecco quindi la presenza dell'angelo è certo che anticipa Giordano Bruno primavera 1580 Oxford dice agli alunni con l'accento napoletano parlava in latino con l'accento napoletano dice dovete sapere che Dio è movimento movimento il movimento il movimento non statico ma dinamico l'universo è la vera dimora del Padre Eterno perché noi siamo un punto nell'infinito e gli hanno buttato le uova e disse un giorno ci incontreremo con quegli altri che vivono nei mondi infiniti lo sapete noi viaggeremo con i carri avremo delle macchine e buttiamogli le uova a marce e questo succederà perché la vera natura di Dio è l'energia che muove i mondi e le stelle ed è intrinseca nell'atomo di idrogeno quindi Dio la prova dell'esistenza di Dio gli extraterrestri ce l'hanno scientificamente perché ti portano la particella nella quale Dio opera ogni secondo che è l'atomo di idrogeno cioè Dio vive dentro l'atomo di idrogeno quindi vive in ogni forma creata perché in ogni forma creata c'è l'atomo di idrogeno o un derivato di esso quindi in questo consiste la onnipresenza di Dio la onnipresenza di Dio consiste che tutta la materia e gli elementi chimici della materia gli atomi sono tutti derivati dal primo atomo che è l'atomo di idrogeno quindi questa è la presenza di Dio cioè la nostra aggiunta cioè noi aggiungiamo a questa teoria che poi non è teoria ma è una pratica scientifica noi aggiungiamo il fatto che c'è un'intelligenza perché non può non essere così che muove questi elementi chimici che si organizzano in maniera perfetta nell'universo ecco quindi Giorgio alla luce di questa frase che comunque tu hai avuto l'apparizione a Fatima io ho avuto l'apparizione a Fatima e tante altre volte però a Fatima la Madonna cioè ti appare nel luogo cardine di questa storia di questa profezia quindi in quel contesto lì anche a te la Madonna ha fatto delle rivelazioni che si legano indubitabilmente a quello che già lei aveva detto ecco quindi questo aspetto lei te lo ha confermato assolutamente mi ha confermato questo e tanto altro tutto quello che da 34 anni scrivo ho scritto migliaia di messaggi viene da lì da lì e dal monte Sinai che è il nostro c'è monte Sona Manfrè dove sono scesi gli esseri di luce questi due luoghi sono l'origine della nostra missione specifico io gli esseri di luce che incontrò Eugenio Siragusa nel 1962 perché Eugenio Siragusa è l'annunciatore il consolatore promesso che avrebbe non quanto persona che avrebbe rivelato la verità e io sto seguendo quella strada che ha seguito che prima era su questo mondo mio fratello Filippo seguivamo il messaggio del consolatore oggi lo sto portando avanti quindi questo essere che si chiama Adoniesis continua la sua opera in questo momento sulla terra e sta rivelando tutta la verità io vi manderò il consolatore che procede dal padre Adoniesis è il padre certo quindi Giorgio quella quella frase in quel tempo seconda metà del ventesimo secolo esseri cosmici eccetera eccetera la Santa Madre non solo te la conferma nella tua apparizione personale ma diventa operativa perché uno degli aspetti che io conosco della tua missione è stato proprio quello di cercare le prove che questa visita era scientificamente reale era un fatto oggettivo non un credo di UFO di cose la settima apparizione se è la mia come penso che sia così è esatta perché viene rivelata la verità cosmica in questo momento che era il momento giusto quindi la settima poi ve lo dico perché poi ve lo dico certamente nel 1917 facciamo come Giordano Bruno che diceva viaggeremo nell'universo manca avevano il carretto ancora certo tra l'altro vorrei aggiungere un dato io da ricercatore che si è interessato di case di contattismo dove questo diciamo aspetto messianico della visita extraterrestre è ben presente nella tua storia e in quella del nostro comune padre spirituale eugenio però di fatto studiando gli altri casi di contatto questo concetto l'hanno espresso tutti Giorgio Adamski Giorgio Van Tassel Auer Menger Orfeo Angelucci tutti hanno legato la presenza di questi esseri che li contattavano con Cristo ora solo dico io i somari che non capiscono e che sono manipolati dall'esterno non conoscono queste cose ma tutti i maggiori contattisti hanno unito l'aspetto profetico l'aspetto cosmico e l'aspetto messianico ed è così esattamente così ma diciamo nell'intensità nella chiarezza e nell'estensione che è stata parte dell'opera di Eugenia della tua nessuno nessuno perché questi scienziati extraterrestri ti ho detto tra questi addoniesi se vogliono spiegare la natura della vita dell'uomo dell'evoluzione dell'universo e nello stesso materiale fisico e dell'universo dell'universo psichico e spirituale la relazione che c'è tra questi elementi corpo spirito e anima e quindi sono direttamente questi esseri che si stanno manifestando perché tutti gli altri contatti che ci sono stati erano dei robot biologici macchine che dovevano preparare le persone a un contatto con gli extraterrestri questi qua invece sono gli esseri pensanti miliardi di anni più avanti di noi se noi ai tempi di San Francesco vivevano col carretto oggi dopo mille anni viaggiamo andiamo sulla luna ti immagini fra un miliardo di anni questa gente che è capace di fare quindi è così noi doveva siamo quel consolatore promesso che doveva rivelare la verità nel tempo nel quale ci troviamo posso aprire un attimo una domanda solo c'è una diatriba a livello internazionale se siamo andati o meno sulla luna un tuo commento o magari qualcosa che ti hanno detto gli extraterrestri guarda io ti faccio due commenti uno che scientificamente ha provato che siamo andati sulla luna due ci sono stato perché mi hanno e quindi ci sono le tracce dei nostri astronauti su questo ci possiamo scommettere la vita questa è la mia risposta tra l'altro Giorgio tra l'altro noi abbiamo avuto contatti Armstrong sulla luna Aldrin Collins certo perché c'è in giro questa idea che non siamo è una manipolazione del potere a che fine secondo te invece sono vere molte fotografie false della luna perché cosa intendi dire che ci sono la teoria non è campata in aria ci sono documenti che dimostrano che erano uno studio che non c'era a Armstrong che era tutto fatto in uno studio una finzione cinematografica una finzione cinematografica perché te lo dico subito il perché hanno preparato questa mescolanza di fatti perché i servizi segreti hanno detto alla NASA se questi parlano degli UFO noi diremo che abbiamo fatto tutto una truffa per vedere la reazione dell'umanità e quindi li screditiamo ancora peggio perché poi tutta l'umanità li accuserà che ci avete ingannato e voi siete stati attori e ci avete guadagnato i soldi quindi introduciamo delle fotografie filmati falsi aspettando che loro rivelino qualcosa se non rivelano niente rimane così nel dubbio ma la maggioranza dell'umanità crede che siamo stati nell'alunio quindi i detrattori poveretti si fanno fregare da questa manipolazione guarda Pier dopo 22 anni che faccio antimafia 2000 una cosa che ho imparato dai servizi segreti perché ogni tanto tutti i giornalisti cerchiamo è che il doppio inganno ti danno una cosa ma in realtà ne stanno pensando e facendone un'altra o ti tepistano o ti manipolano perché il lavoro dei servizi segreti con tutti i ricercatori cittadini non è mai quasi mai genuino quando io sono stato in Russia mi hanno dato la verità le foto vere perché in realtà volevano portare un messaggio agli Stati Uniti d'America che loro sono pronti e quindi ti stiamo batti stiamo vedi che ti stiamo cioè politicamente siamo più bravi di voi e hanno trovato e cercavano una persona onesta giusta che lo potesse fare e hanno trovato a me a me serviva perché gli extraterrestri lo volevano quindi l'utile al dilettevole quindi quando mettono in giro delle fotografie non siamo mai stati sulla luna c'è un libro famoso non è così le foto che ha divulgato la NASA ci sono foto proprio trucchi straordinati poi fatti anche male tra l'altro nel 1969 70 io sto portando avanti una serie di incontri dove proprio le faccio vedere i trucchi che hanno fatto mescolati con foto vere esatto bravissima tu devi dire avevano paura preventivamente perché sapevano che gli astronauti avrebbero incontrato gli extraterrestri ma se c'è il progetto Majestic 12 cioè Pier mandiamo gli astronauti nella luna e pensiamo che gli UFO non si fanno vedere quindi dici intanto questa polpa perché sai era gente libera comunque quelli erano eroi andavi in una televisione in diretta come fai a smentire Armstrong lo smentisci e quello guardate era tutto un falso a lui gli toglievano lo stipendio lo mandavano sull'astrica e quello se l'è fatta sotto fino al giorno prima di morire io penso che li avranno nei giorni di quarantena li avranno anche minacciati di stare zitti sicuramente però non gli bastava perché la minaccia perché sono militari il militare per la patria è capace di morire quando gli hanno detto tipo andiamo sull'astrico soldi alla tua famiglia sei responsabile e ti sei inventato tutto allora come mi sono inventato tutto e comunque privatamente Armstrong ha parlato con varie persone dicendo che lui aveva avuto un incontro certo c'è anche la famosa registrazione registrazione dei radiomatori americani che hanno capitato Armstrong che sta dicendo sono di fronte a noi sono tanti sono incredibile sono di fronte a noi erano gli astronomi e che erano Giorgio hai detto che sei stato portato sulla luna aspettati di tutto adesso ma io volevo dire che sono stato portato sulla luna durante uno spritz ecco così ho rivelato la verità so se vuoi dare qualche dettaglio in più di questa esperienza e allora le esperienze che vivo io sono fisiche o astrali e per me non fa nessuna differenza per voi sì perché l'esperienza astrale per voi è un sogno invece l'esperienza astrale quando tu dici sono qua buonasera sono le nove e mezza adesso cammino vedo quella persona l'abbraccio e poi magari tocchi aria tu ci resti allora sto sognando beh ricordo Giorgio che Gesù attraversava i muri dopo la resurrezione bravo quindi tu sei in astrale stai dormendo per l'essere umano io sono nella mia stanza ma poi viene prelevato e quindi non è la sensazione fisica che senti gli odori senti i sapori se sei sulla terra se sei sulla luna non senti niente senti un regio un piccolo sibilo sibilo che può essere come va leggero non disturba tipo così che sono le polveri cosmiche che in assenza di atmosfera fanno questo rumore è una specie di suono bellino però non che ti disturba siccome non hai il corpo non muori perché sei lì e vedi tutto vedi con gli occhi vedi a 360 gradi vedi anche dietro e tu sei convinto che sei con il corpo quindi non c'è scafandro non c'è niente stai guardando quello che c'è e parli con i tuoi interlocutori invece con il corpo fisico non sono mai stato portato nello spazio perché mi devono scafandrare mi devono cioè vestire cioè tutelarmi no? col corpo fisico ho avuto esperienze sulla terra proprio ho toccato uomini bellissimi e donne bellissime anche che non hanno la sensualità cioè l'attrazione sessuale come diciamo noi l'arrapamento non ce l'hanno bisogno a meno che non si tratta dell'atto procreativo e quindi si fanno accarezzare tu le accarezzi senza eccitazione non c'è bisogno perché c'è l'adorazione cose anche queste che mi mandano al manicomio no? poi se vuoi sapere altro te lo racconto invece sull'Eldorado ci sono stato credo col corpo fisico credo perché di questo non gliel'ho mai chiesto perché mi hanno messo quando mi hanno preso mi hanno messo una specie di storia nel credo un involucro protettivo quindi lì ma nel dubbio per me va bene anche viaggio astrale che cosa cambia cioè in questo momento ci sono due esseri credo qui dentro che ci stanno guardando non ti dico dove sono ma ci sono e sono al 100% presenti con il corpo astrale a differenza mia a differenza a differenza hanno risposto a differenza mia che non lo so fare loro possono materializzarsi se 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 adesso loro volessero si fanno vedere tanto salutiamo i fratelli e li ringraziamo del loro aiuto sono le mie guardie del corpo io non ho bisogno di scorta loro so mi proteggono e sono anche molto felici di trasmettere energia armonia nelle arche e chi mi vuole del male lo perdonano lo rispettano però lo possono colpire a morte se mi vogliono fare del male torniamo a Fatima Giorgio quindi dopo comunque questa digressione che è rimasta nell'ambito del discorso cosmico extraterrestre presumo che dobbiamo rivedere un attimo il concetto di miracolo del sole che accade a Fatima il 13 ottobre è un astronave che si è interposta al nostro sole perché il nostro sole se cade sulla terra se lo succhia in 35 secondi certo la terra di fronte al sole è una mollica di pane esatto con una di fronte a una una mollica di pane di fronte a una palla di calcio un pallone di calcio quindi se lo risucchio immediatamente invece quella era un astronave che si è interposta di fronte al sole e che ha fatto si è mossa fino quasi loro credevano che la toccavano ma sarà stata a una distanza di alcune centinaia di metri che ha prosciugato la terra ha asciugato infatti pioveva tantissimo si ha asciugato gli apri c'era falco persino il terreno ha asciugato tutto ha asciugato tutto l'istante che la temperatura l'avrà alzata a 40 50 gradi ed erano gli esseri di luce quelli che conosciamo noi ma anche il Mar Rosso sono state 7-8 astronavi che hanno separato con l'energia magnetica l'acqua loro sono padroni della gravità quindi possono anche utilizzare l'acqua per fare qualsiasi cosa loro possono alzare un'onda di mille metri e farla stare ferma perché controllano la gravità della terra basta avere il possesso della gravità puoi fare tutto volare stare fermo teletrasporto teletrasporto ma poi tu hai il controllo della gravità e delle macchine chiamiamole così che possono muovere l'acqua è come le dighe noi muoviamo l'acqua con le dighe rudimentali cioè loro muovono l'acqua con l'energia magnetica che controlla la gravità quindi possono scagliare uno tsunami contro un'intera città come possono divaricare il Mar Rosso e poi sono entrati gli egiziani e sono morti tutti alla faccia della misericordia di Dio esatto che non è che gli ha detto prima che il faraone entrasse con l'esercito a Doniesi se gli ha detto scusa faraone cioè per favore torni indietro dai fatti fatti sta cortesia vedi se non torni indietro ti faccio cadere l'acqua il faraone ad Doniesi se gli avrebbe fatto una pernacchia e siccome Doniesi se lo sapeva non gli ha nemmeno chiesto al faraone se voleva tornare indietro li ha uccisi tutti questo è Dio vi piace o non vi piace questo è Dio nel 1960 Giorgio il messaggio secondo il volere della Santa Madre doveva essere pubblicato invece accade che il cosiddetto Papa Buono Giovanni XXIII non lo pubblica perché secondo te il Papa prende questa decisione eppure è ritenuto un grande saggio un grande iniziato questo Papa ha premesso che il Papa come tutti gli uomini può sbagliare in quel caso è stato tentato da Satana guarda è stato tentato da Satana Pietro se noi accettiamo che Pietro è stato tentato da Satana ed è caduto quando rinnega quando rinnega ma anche prima quando Gesù gli dice il figlio dell'uomo va e si sacrificherà per voi no signore questo io non voglio vattene Satana cioè lì dice così a Pietro ora se Pietro che è il principe degli apostoli il nostro cioè la nostra guida della nostra chiesa è Pietro il Signore gli dice vattene Satana perché non può accadere a Giovanni XXIII è stato tentato da Satana ed è caduto come un ingenuo come è caduto Giovanni Paolo II come posso anche cadere io l'importante è che ci pentiamo però io posso cadere nell'umana natura assolutamente dove io non posso cadere nella teologia Pier mi dispiace per questo mi vogliono uccidere o mi vogliono fare fuori civilmente perché tutto mi può succedere a me ma nella teologia non cadrò io la verità la conosco bene su questo sono arrogante poi posso anche scivolare in un errore anche grave chiederò perdono se lo faccio fino adesso legalmente ho la fedina penale pulitissima il segretario personale del Papa è stato Monsignore che poi diventerà Cardinale Loris Capovilla sì io l'ho conosciuto personalmente l'ho anche intervistato e non mi smentì il messaggio di Fatima cioè se la trovate negli archivi c'è un'intervista a Monsignor Capovilla dove lui dice non dice però era giovane cioè 80 anni era già ancora già io avevo appena 30 anni e mi dice nella sostanza è vero che lui l'aveva letto lui era presente quando Papa Giovanni ha aperto la busta ha aperto la busta e gliel'ha letta perché era in portoghese lui parlava il portoghese e il Papa gli ha detto leggimela e l'ho letta e lui mi disse personalmente c'è la registrazione non le posso dire niente però nella sostanza quello è e stiamo parlando del messaggio di Fatima che la chiesa il Vaticano il Ratzinger il Giovanni Paolo II e tutto il ciarpame la feccia della chiesa cattolica la cuspide ha sempre smentito e quello l'ha letto scusami allora era Capovilla matto o era Ratzinger il bugiardo perché quello mi dice io gli ho dato questo è il segreto di Fatima quella guerra il ruolo di guerra la terza guerra mondiale la Russia il castigo tutte le cose che sappiamo che ha detto no quella era una grande e ci hanno dato sto messaggio di Lucia che dice quattro cose e ci hanno nascosto questa certo esiste? cioè quello di Lucia è parziale il messaggio hanno preso la parte che conveniva al Papa perché il più grande bugiardo della storia che è Satana sa manipolare una parte di verità con il falso è vero che il Papa è stato salvato è vero che c'era l'attentato al Papa nel segreto di Fatima e tutto il resto dov'è? no quello non conveniva l'hanno tolto stai parlando della rivelazione fatta da Grazinger e Bertone nel giugno nel 2001 perché il Papa gli ha detto a me ma lo dovete divulgare il messaggio di Fatima almeno la parte che concerna a me e quello l'hanno ubbidito dicevo Monsignor Loris Capovilla sembra che abbia testimoniato che Papa Giovanni XXIII ebbe un incontro personale con un extraterrestre nei giardini vaticani tu sei qualcosa si sei qualcosa era uno degli esseri che aveva incontrato Adamski e non a caso Adamski va dal Papa e gli dà una monetina d'oro certo perché Adamski perché il messaggio che doveva dare Adamski al Papa era in base a quell'incontro perché lui aveva avuto quell'incontro e allora Adamski parte dagli Stati Uniti e racconta a Giovanni si si ci sono le testimonianze storiche che Adamski in forma privata fu a Roma proprio mentre il Papa era morente che l'incontro avviene e addirittura fu il console perego che accompagnò Adamski fino al colonnato di Piazza San Pietro esatto quindi perché è stato detto che Adamski io non so che cosa si sono detti se vuoi te lo dico non l'ha detto mai nessuno Giorgio Adamski il Papa chiede ad Adamski sono demoni o sono angeli sono angeli bene allora posso morire tranquillo questa è stata la discussione fine tutti i segreti di Pulcinella quindi Adamski doveva confermare questo sono gli angeli perché Adamski non ha detto tutto no lui ha detto al Papa sono gli angeli del Signore sono l'esercito celeste è questo santità non ci sono i paradisi ci sono il cosmo gli extraterrestri venusiani i pleiadiani e c'è chi ama Dio e chi odia Dio chi odia Dio se ne sta fermo lì o addirittura vengono sulla terra come puniti puniti e gli altri e c'è una gerarchia gli angeli e gli arcangeli sono nel sole gli ha spiegato questo nel breve incontro però quello che voleva sapere il Papa sono buoni cioè sono angeli o sono demoni e Adamski gli ha detto sono angeli sono gli angeli e lui ha detto adesso posso morire tranquillo se la vede il mio successore a spiegare alla gente questa grande rivelazione cosa che poi Paolo VI non ha fatto non ha fatto però ha fatto qualche altra cosa di interessante Paolo VI però questo non l'ha fatto tra l'altro Papa Montini era l'ex comandante dei servizi segreti vaticani quindi tante cose le sapeva lui sapeva tutto certamente sapeva tutto sapeva soprattutto quanti soldi la mafia aveva messo nella banca del Vaticano certo che ricordati che quando lui dice il fumo di Satana è entrato in Vaticano si riferisce a Cosa Nostra che ha messo i soldi nella banca perché lui scopre che Sindona il suo banchiere era mafioso però non poteva fare più niente perché lui era un Papa molto sensibile Montini dicevano che era gay ma non c'è non è problema però lui dice il fumo di Satana è entrato nel Tempio di Dio era la mafia che aveva preso possesso negli anni 70 di miliardi e miliardi e miliardi di migliaia di miliardi che ha messo dentro la banca del Dio diciamo che era l'inizio dei tempi in cui la mafia dirigeva il traffico mondiale di droga dal 1973 fino al 1986 87 stiamo parlando di 13 14 anni adesso ancora è tra i leader ma dal 1972 73 fino al 1986 87 88 fino agli inizi degli anni 90 la mafia era il aveva il monopolio mondiale della droga in tutto il mondo fino alla Thailandia fino alla Cina Russia compresa che comunque si drogavano in Russia anche se c'era il partito comunista e quindi le famiglie di Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana non sapevano dove mettere i soldi questo è stato quasi provato aveva tra i 5 e i 6 mila miliardi del traffico di droga di Cosa Nostra nella Banca del Vaticano quindi aveva il monopolio mondiale e controllava grazie all'appoggio della loggia massonica P2 tutto lo status della nostra democrazia del nostro Stato con il bene placido anzi il coordinamento degli Stati Uniti di America questo Giorgio in qualche modo fa parte del messaggio di Fatima questo fa parte del messaggio di Fatima perché il messaggio di Fatima dice e Satana si introdurrà sulle più alte sfere del mondo e riuscirà persino a mettersi alla sommità della Chiesa che non dice Satana si ergerà alla sommità della Chiesa mette Satana conquisterà i più alti vertici del mondo e ho più una frase così sino ad introdursi fino alla sommità della Chiesa e Satana i migliori cioè la potenza militare guerra fondaia dell'Occidente è Satana i soldi sono Satana e Cosa Nostra l'organizzazione criminale più potente del mondo allora era il braccio violento di questo potere e lo sta per diventare ancora oggi di nuovo e queste sono notizie di ultima mano perché se sorge un movimento politico giovane che vuole come i 5 stelle più fresco più giovane più leale più onesto più tutto e prende piede perché la gente comunque stanca allora gli Stati Uniti d'America pongono in essere di nuovo una strategia dell'attenzione e utilizzeranno le organizzazioni migliori che noi possiamo fornire che sono la mafia l'andrangheta la mafia e quindi cominciano gli attentati di nuovo vi dovete augurare se non volete morire vedere morire magistrati i vostri figli che continuano queste pagliacciate nella politica e che non sorga un nuovo movimento politico giovanile perché con i fascisti con i falsi comunisti e con i 5 stelle falliti noi possiamo andare avanti senza bisogno di mafia c'è bisogno della mafia se ci saranno uomini giusti e onesti a governare questo paese e Cosa Nostra ha rallentato la minaccia perché l'ultima speranza che gli rimane non è più Berlusconi ma sono gli Stati Uniti d'America che ritornino ad offrire possibilità per ritornare a essere forti e potenti come prima è un po' paradossale Giorgio che un risveglio positivo del popolo coincida certo perché il delitto Moro la strage di Via Fani la strage della Loggia la strage di Portella della Ginestra la strage del treno Italicus la strage del Rapido 904 l'uccisione di Mattei l'uccisione l'uccisione di Mattarella la strage Falcone Borsellino l'omicidio della Chiesa la strage di Peteano la strage di Piazza della Loggia la strage di Bologna sentito quanto te ne sto nominando sono tutte collegate da un filo rosso il filo rosso sono gli Stati Uniti d'America di recente abbiamo scoperto che quando il giudice Tescaroli ha iniziato l'indagine della strage di Capaci si è trovato e si è incazzato scrivendo un agente dei servizi segreti nell'indagine americana scusate ma qui siamo in Italia o siamo in America e che c'entra la gente dell'FBI che vuole far parte della squadra che deve trovare i mafiosi ma tu scusa fatti i tuoi e te ne stai in America no e gliel'hanno imposto e lui ha fatto il rapporto ha fatto un'indagine e poi l'hanno dovuto allontanare a questo ma se non c'era il giudice Tescaroli noi ci trovavamo la CIA già ce l'avevamo e quindi di che cosa stiamo parlando e dove è andato Giuseppe Graviano prima di incontrarsi con Marcello Dell'Utri al Bardonei tutto vestito come da prima donna diciamo in Sicilia tutto un licchettato da matrimonio dove è andato dove è andato giri l'angolo dal Bardonei a Roma giri e c'è l'ambasciata americana forse aveva avuto garanzia da loro forse oggi sperano i i mafiosi che la guerra fredda si intensifichi certo non vogliono la guerra atomica si intensifichi in modo che l'unica potenza che può dare veramente e con serietà mantenendo la parola agevolazione alla mafia sono gli Stati Uniti d'America perché i governi hanno visto che sono tutti pagliacci tra l'altro Giorgio lo stesso assassino di John Fitzgerald Kennedy l'assassino fu dalla mafia e dalla CIA i killer erano della mafia quindi è Matteo Messina Denaro che prende in giro i magistrati cioè capisci questo signore che fa lei ha possedimenti in denaro sì me li avete sequestrati tutti quelli che ho certamente non ve li do a voi questo è di uno vedi Cosa Nostra non fa niente a caso se lui risponde così Matteo Messina Denaro con arreganza con con sprezzo con spocchiosità è perché perché si cominciano a sentire forti da qualcuno che gli sta dicendo non vi preoccupate che se le cose peggiorano ci siamo noi noi siamo gli americani Stati Uniti d'America l'anticristo identifica Giorgio volete sapere chi era l'anticristo sono i i potenti non i cittadini americani che ho amici e fratelli spirituali e anche intellettuali ma il potere che vige negli Stati Uniti d'America sono l'anticristo la bestia che viene dal mare e l'altro anticristo è quello che c'è in Russia e tutti e due si fanno la guerra e alla fine si ammazzano tra di loro e vinciamo noi certo nel messaggio di Fatima dove identificheresti questo grande potere dominatore feroce oltre atlantico cioè gli Stati Uniti d'America gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra che sono il dragone il vero potere c'è l'Inghilterra ma non i cittadini tutta la city la city di Londra e la Svizzera ci sono tutti i soldi del mondo con gli ultimi movimenti che stanno accadendo in Svizzera che falliscono le più grandi banche del mondo si perché la city di Londra vuole prendere il potere cioè vuole che tutti i soldi del mondo vengano depositati lì i soldi dei dittatori dei fascisti dei mafiosi non i soldi della povera gente o delle persone benestanti oneste nostre italiane che ce l'hanno nelle banche ci pagano le tasse non gli danno quasi niente interessi lì ci sono i soldi dei criminali e sono nella city di Londra guardatevi una serie si chiama Diavoli ecco lì che c'è il nostro massimo il nostro grande attore italiano è quello bravissimo americano che ci spiegano che cosa c'è nella city ho visto la prima serie cosa succede nella city di Londra è il diavolo in persona quello è l'anticristo c'è un l'anticristo un altro anticristo che prima erano amici e si è ribellato si chiama Putin ecco perché adesso l'anticristo non pensa a Teo a me c'ha tanto da fare c'ha una bella gatta da operare c'è una bella rogna cosa lega Giorgio quindi l'attentato in piazza San Pietro al messaggio di Fatima qual è il trade union il cuore di questo evento allora teologicamente era un ammonimento perché sto segreto non veniva il 13 maggio scusa non veniva divulgato il 13 maggio 1981 aspettiamo aspettiamo vent'anni che aspettava la Madonna e quindi ovviamente non c'entra niente Dio nell'attentato ma Dio ha permesso che la mafia siciliana la mafia turca i terroristi turchi con il tacito consenso dei servizi segreti americani servizi segreti russi potessero porre in essere tutti avevano una convergenza di interesse ce l'aveva la mafia perché aspettava i miliardi che Marcinkus non voleva ritornare i servizi americani perché facevano pressione che il papa dovesse attaccare dare spazio a Solidarnosc per far sì che cadesse il comunismo nelle terre dell'est e i servizi segreti russi per lo stesso motivo al contrario stai attento a quello che fai quindi c'è stata una convergenza di interessi di servizi segreti dell'Unione Sovietica dei servizi segreti della CIA dei servizi segreti della mafia turca e della mafia siciliana che avevano credito con la banca del Vaticano e quindi Dio ha permesso lo svolgimento di questo piano diabolico per uccidere il papa e gli è andata male ma era nella profezia che gli andasse male che la Madonna lo ha munito ma lo ha salvato è vero che l'ha salvato la Madonna io ci credo ciecamente l'ha detto papa l'ha detto lui e poi lui si è sentito in colpa e quindi da lì ha cominciato ha detto prima di morire lo divulgo quando avrò segni che sto per morire divulgo il segreto di Fatima adesso mi taccio però l'ha fatto in parte l'ha fatto in parte perché gliel'hanno imposto non credo che lui non gliene fregava ma niente tremava tutto qualsiasi cosa dicevano per lui era d'accordo solo che Ratzinger essendo la mente diabolica della chiesa cattolica del ventesimo secolo gliel'ha impedito e quindi la mafia avanzava 5 mila miliardi c'era lo scandalo del Banco Ambrosiano c'era la massoneria che incalzava e quindi l'altro giorno mi hanno mandato un'intervista di un nostro collaboratore freelance di Alia GK che siccome questo collaboratore intelligente ed è uno scienziato laureato in criminologia gli ha detto ma scusa a Palermo che ci facevi tu il giorno? eh questa storia che la mafia c'è Alia GK ha smentito ero lì per caso cioè tu devi ammazzare il Papa il giorno dopo e passi da Palermo perché ti volevi pigliare un caffè a Palermo quindi il cuore del segreto cioè il cuore dell'attentato rimane comunque il messaggio di Fatima il cuore dell'attentato cioè la mente politica diabolica materiale te l'ho detta il Dio lo permette per sollecitare al Papa e il Papa fa due cose una pone in essere la volontà americana fai la guerra al comunismo infatti grazie a Giovanni Paolo II finisce l'era comunista e viene Gorbaciov no? e quindi ubbidisce e l'altra la volontà di Dio la fa nel 2000 quando sta tremando tutto che non capisce più niente ma la fa a metà perché il messaggio viene divulgato per metà certo manca manca la parte centrale la parte centrale tra l'altro Giorgio viene anche detto che il segreto di Fatima si compiva con l'attentato al Papa cosa che invece poi loro hanno detto questo Bertone e Ratzinger però poi quando Ratzinger diventa Papa Benedetto nel 2010 a Fatima smentisce se stesso dice che i pedofili erano all'interno del segreto di Fatima ma non in quanto pedofili che Satana si era introdotto ai vertici della Chiesa quello voleva dire il Papa tra l'altro dice che la portata profetica non si era conclusa e che l'uomo aveva sviluppato un circolo di morte e terrore che non riusciva più a fermare e adesso lo stiamo vivendo perché Ratzinger cambia secondo te da cardinale dice una cosa da Papa dice l'opposto rispetto ai contenuti del segreto di Fatima cioè nel giugno del 2000 dice si è concluso con l'attentato al Papa poi diventa Papa e dice no non si illudessero coloro che pensano che il segreto di Fatima ha concluso la sua portata profetica ancora sì esatto perché cambia perché il Papa Ratzinger è un non condivido la sua scelta fascista estremista soprattutto con la teologia della liberazione appoggiando le dittature sudamericane cioè porcherie però di fatto a modo suo è un credente fedele della Chiesa Cattolica quindi quando diventa Papa e si avvicina super agli 80 anni dice io devo morire quindi non posso tenere tutto segreto e comincia a dire le cose perché lui lo conosceva il segreto lui ha parlato si comincia a dire delle cose nell'attesa del perdono di Dio lì però non mi farà la domanda perché non lo so vabbè lo lasciamo alla volontà del padre io non lo perdonerei ma io grazie a Dio non sono Dio in questo momento ho sentito che anche Razzi ha detto meno male che lui non è Dio non lo perdonerei perché non ha collaborato con la giustizia ed io sono così come sono sulla terra secondo me vanno rispettate le leggi anche in cielo io perdono uno che collabora con la giustizia lo perdono lo abbraccio gli do tutto l'amore ma uno che non collabora con la giustizia per me va castigato punito anche per dare l'esempio a quelli che non collaborano certo quindi quando noi diciamo ai mafiosi ti facciamo uscire cioè noi siamo miserabili assassini noi il mafioso se ti penti ti do una vita nuova uno stipendio la pensione la casa con le prove ovviamente pentimento vero ma se non ti penti butto la chiave non ti faccio più vedere nemmeno i familiari la mamma cioè sei un uomo che ti devo dare da mangiare perché sono non posso ucciderti però tu a vita non ti faccio più incontrare nessuno non puoi scrivere a nessuno non puoi parlare con nessuno solo col secondino e non ti faccio guardare nemmeno la televisione prima o poi vediamo chi cede se invece cedi e collabori tu sarai perdonato e sarai anche rintrodotto nella società con un nome nuovo ti do la pensione a vita questo dovrebbe fare lo Stato invece lo Stato è come i mafiosi o peggio e c'è collusione e nessuno più collabora con la giustizia perché se diventi un collaboratore di giustizia ti perseguitano non ti danno da mangiare e ti ammazzano quindi che collaboro a fare certo io invito con questa legge a non collaborare con la giustizia ai poveri mafiosi hai capito come sono provocatore invito a collaborare con la giustizia quando questo Stato fascista questo governo fascista mi spiace che Mattarella fa come si chiama la mummia lui che hanno ammazzato il fratello se non avevamo i collaboratori di giustizia come facevamo a sapere che ha ammazzato il suo fratello quindi dovrebbe premere per una riforma dei collaboratori di giustizia a favore dei collaboratori di giustizia a me mi scrivono tutti i giorni gente che mi chiede che sta facendo sciopero della fame perché lo Stato o gli ha cambiato il nome poi vai nell'hotel come ti chiami? Pier Giorgio Caria ma mi faccio controllare ma lei si chiama Gaspar Respaduzzi è quello che gli prende un colpo questo è lo Stato questo è quello che fa lo Stato che c'entrava Fatima c'entra 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 certo lei parla dei grandi mali la Madre Santa c'entra anche con la strage di Via D'Amelio questo lo hai detto un giorno lo scopriremo lo hai detto più di lavoro c'entra nel senso di misericordia di sacrificio di Paolo Borsellino come fosse un Gesù Cristo gli angeli della scorta quello una crocifissione anche per salvare le nostre anime di quei grandi di quel martire con i suoi angeli che certamente se santo devono fare facciano Paolo Borsellino e i suoi ragazzi che nell'Apocalisse si dice che dovevano essere sacrificati è un martire della giustizia come Giovanni Falcone Giuseppe Fava Rocco Chinnici eccetera eccetera quindi nel contenuto escatologico che è anche nel segreto di Fatima questi martiri sono essendo laici sono a pieno titolo i laici o i credenti per chi è credente non cambia niente d'altronde persino la Shoah gli ebrei riconoscono nei nemici nazisti tedeschi alcuni giusti che sono cambiati come Schindler il grande industriale era un nazista però era un industriale nazista però ha salvato migliaia e migliaia di ebrei e per quanto laico non credente in Dio è nel cimiterio dei giusti e così va fatto questo tuo parlare Giorgio evidenzia a parer mio forse una cosa banale per tutti comunque la dico dico una cosa che tu hai già detto pubblicamente cioè che tu sei il pastorello Francesco Rinato e quindi tu hai detto Giacinta e Francesco muoiono perché dovevano testimoniare quindi la prosecuzione il compimento del messaggio di Fatima e la missione che questi due personaggi dovevano fare era testimoniare sottolineare il compimento storico cioè la manifestazione storica della profezia che la Madonna fa Fatima cioè tu di fatto stai facendo questo stai commentando indicando spiegando e accusando quello che sono i contenuti del terzo segreto di Fatima quindi la parte spirituale messianica sto sviluppando quel tema che la Madonna aveva cioè di fatto corpo, anima e spirito se vogliamo identificare il cosmo con l'anima però è per un elite perché vedi per quanto noi adesso tu hai un grande successo di decine di migliaia di persone che ti vedono e ti seguono però noi parliamo ma un elite certo rispetto a 8 miliardi rispetto anche alle trasmissioni di 10-20 milioni di persone e quindi perché è quello il popolo che noi dobbiamo tra virgolette conquistare molti chiamati pochi eletti esatto ma arriverà un giorno in cui c'è queste queste grandi verità saranno divulgate a miliardi di persone ti ritroverai sicuramente tu Jaime a spiegare queste astronavi che cosa vogliono è quello che mi auguro confido Giorgio e per questo rifiuto qualsiasi tipo di polemica da chi mi attacca perché io confido nella manifestazione dei fatti degli eventi che quelli mettono a tacere qualsiasi polemica è inevitabile è inevitabile ma così è successo sempre nella storia abbiamo parlato di Giordano Bruno ma Galileo e tutti gli innovatori si sono trovati sempre da soli però questa volta vedi non c'è scampo questa volta chi merita erediterà insieme a questi esseri una nuova scienza una nuova frontiera chi non lo merita andrà vedetevi il film vedetevi il film che c'è al cinema che voglio vedere di quei viaggiatori spaziali che arrivano sulla terra e trovano i dinosauri fuga dalla terra ecco quella è la nostra storia quei magari viaggiatori sono stati puniti perché si sono e sono stati mandati in un pianeta primitivo 65 milioni di anni fa ecco chi non merita con la coscienza che ha sarà trasferito in un pianeta terra giovane come quello come quello di 65 con i dinosauri quindi non avrai più i grandi banchieri i grandi speculatori della pelle umana i grandi trafficanti di droga i grandi falsi religiosi non avranno come con il consulente commerciale capire quanti soldi hanno guadagnato avranno problemi con il T-Rex perché si devono salvare il sedere che quello se li magna quindi le riunioni che faranno oggi quanti T-Rex ci sono in giro quanti sono rimasti vivi della nostra famiglia quelli saranno i problemi che avranno quelli sono così furbi che faranno le monette con le unghie dei dinosauri no lì il dinosauro sente odore di sangue e ti mangia perché lì saranno trasferiti quindi ci sarà per queste persone non il castigo l'inferno ritorneranno nelle origini saranno trasferiti con i loro corpi lì perché devono imparare a sopravvivere e a a far risorgere l'istinto della conservazione della vita non l'istinto dell'estinzione della vita quindi mettiamoli con i T-Rex con i i vari dinosauri a così ci viene la voglia di non estinguersi io consiglierei loro di portarsi qualche bustona di crocchette magari si tengono buoni per un po' è bello quel film mi hanno detto lo voglio vedere ci pensavo ieri di andarci perché quelli io mi vedo quell'astronauta che cerca di difendersi con i fucili quelli a laser dai T-Rex perché perché sono arrivati lì perché o sono stati puniti o il loro pianeta si sta degenerando quindi comunque una punizione beh è una storia che è caduta sulla terra ma non solo sappiamo Eugenio parlò dei titani e di altri di altri gruppi che carmicamente poi sono stati esiliati qui Giorgio c'è un personaggio particolare e vorrei un tuo commento parlo del monaco santo secondo la definizione che lo stesso papa Giovanni fa nelle sue profezie poi facciamo una piccola cosa del signor Rasputin Grigori Evimovic Rasputin è curioso Giorgio che Rasputin viene ucciso in quel complotto la notte del 29 dicembre 1916 cinque mesi prima delle apparizioni di Fatima c'è una relazione secondo te tra questa figura che comunque fece molte profezie di carattere cicatologico e Fatima le profezie non sono impegnative sono delle previsioni tranne una che diciamo più che una profezia è un annuncio è un annuncio di certezza la seconda venuta di Cristo ma tutto il resto anche le profezie di Cristo comprese sono delle previsioni se tu non se tu fai questo ti succederà questo se tu non fai questo ti succederà quest'altro quindi la profezia vera unica io tornerò e giudicherò il mondo e lì non si scappa quella non falla non cambia non falla invece il resto in base alle scelte che facciamo noi può trasformarsi la profezia cambiare per esempio io sento ma lo dico io che so l'ultimo chiodo della carrozza diciamo nei messaggeri che la profezia della mia morte che doveva avvenire a 49 anni è stata cambiata da Dio ora non mi chiedere perché i disegni lì solo lui lo sa però ci sono state delle cose che sono accadute in positivo che mi hanno fatto o in negativo questo non lo so ma io credo in positivo che mi hanno fatto rimanere e quindi la Madonna annuncia dei fatti che possono cambiare Rasputin se avesse compiuto la sua missione e sarebbe stato ascoltato la Madonna non sarebbe apparsa cioè o se fosse apparsa non avrebbe profetizzato che Dio avrebbe castigato il mondo tramite la Russia perché la Russia sarebbe stata la nazione che portava il mondo alla pace perché se Rasputin non fosse stato ucciso se fosse stato ucciso dal popolo lui avrebbe detto tu regnerai altri mille anni allo zar Nicola II se invece mi uccidete i nobili il popolo prenderà con la forza e la violenza il potere e lì allora sarebbe stata la contraposizione Russia e Occidente cioè Unione Sovietica e Occidente la guerra fredda eccetera Rasputin viene ucciso e quindi ecco perché non è apparsa prima aspettavano l'esito di questa missione che poi come sappiamo Rasputin è Giovanni l'Evangelista altra cosa che mi arrestano perché ancora in Italia pensano che Rasputin era un puttanieve uno che se la faceva con tante donne questa fu la propaganda la propaganda ma noi abbiamo le prove che il dottor Orazio Valenti e altri hanno acquisito che c'erano delle fotografie perché Rasputin è una figura secondo Eugenio una sua vita precedente sì assolutamente e quindi ci sono le prove che c'erano delle controfigure sai all'epoca le fotografie con la Polaroid le facevano tipo Polaroid che usciva la fotografia e quindi si vedeva questo barbone in mezzo a dieci donne insieme che aveva scusate tanto siete adulti che aveva il suo organo genitale 37 cm c'è una cosa da barbarie che è poi vero quindi c'è cose vere e addirittura lo hanno evirato per dimostrare che lui e c'è nel museo a Mosca c'è questa a Mosca San Pietroburgo quindi tutte propaganda per screditarlo delegittimarlo quello che oggi chiamiamo la macchina del fango la macchina del fango Rasputin era un guaritore di fatto un monaco rozzo gli piacevano le donne ma era religione ortodossa quindi avrà cambiato delle fidanzate e ebba l'alcol in Russia cioè chi è che non beve l'alcol in Russia fa freddo e gli piaceva questa però Lazzarino l'ha chiamato che secondo noi è la vera compagna spirituale era Lazzarina l'ha chiamato e gli ha guarito il figlio cioè quello era immofiliaco doveva morire a quattro anni e ha accampato fino a quando non gli hanno sparato certo quindi c'è una figura ed era contro la guerra senza sé e senza male Rasputin voleva che la Russia uscisse dalla triplice intesa e quindi si facesse la sua strada fatela però voi la guerra sembra che a ordire il complotto furono gli inglesi e certamente gli inglesi c'è anche un documentario fatto benissimo da History Channel dove viene dimostrato che i servizi inglesi convincono il principe Yusupov e gli altri congiurati il principe Yusupov la nobiltà russa ucciderlo Yusupov perché era geloso era gay ma era geloso della moglie che era bellissima era meravigliosa e lo hanno utilizzato perché Rasputin era innamorato di Yusupov e della moglie di tutti e due ma non è perché era gay perché gli amava e sentiva come figli e allora il deputato Puriskevich che era anche della massoneria russa e si sono messi d'accordo con la massoneria inglese quindi di nuovo la testa pensante del dragone ha ragione molte ragioni Carlo Falermo che la massoneria è la vera potenza mondiale allora la Vergine chiede espressamente cioè per essere esatti lei nelle apparizioni del 1917 dice a Lucia che sarebbe tornata per chiedere la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato perché la Vergine ci tiene così tanto che il Vaticano facesse un atto che visto dai nostri occhi potrebbe essere molto formale perché la divinità ha bisogno che il Vaticano faccia questo atto formale perché lei ci teneva che segno voleva avere dall'istituzione religiosa perché nel 1960 quando l'umanità era pronta a capire entrata nell'era purtroppo del nucleare e di emissioni nucleari in quel momento era capace di capire le intenzioni e le richieste della Madre Santissima e la Madre Santissima usa un linguaggio religioso giustamente ma in realtà è una richiesta politica politica no nel senso marcio nel senso della polis cioè era una richiesta di avvicinamento da parte dell'Occidente cristiano e quindi Stati Uniti d'America che di fatto è cristiano poi cristiano cattolico pedente costale mormoni che più ne metta però gli Stati Uniti d'America seppur governati da banchieri ebrei sono ebrei cristiani molti e il potere centrale dell'Occidente tutto l'Occidente è cattolico tranne comunque cristiano e che tutto il la potenza occidentale della democrazia occidentale tranne i testimoni di Geova e qualche religione protestante evangelista di poco conto dal punto di vista numerico per carità non dal punto di vista teologico riconoscono tutti la Santa Madre tutti adorano e vedano nel mondo occidentale la Santa Madre dall'altra parte in Russia la Russia ortodossa adorano la Santa Madre quindi richiesta perfettamente geniale politica consacrami la Russia per consacrare la Russia non è che lo doveva fare a casa il padre il papa lo doveva fare solennemente e recarsi a Mosca per essere forte con la chiesa russa la chiesa cattolica la chiesa ortodossa si gemellavano non dico che la chiesa ortodossa dovesse ritornare a essere cattolica riconvertirsi al cattolicesimo la chiesa cattolica e la chiesa russa grazie alla visita del papa chiunque esso sia fosse chiunque fosse stato andava a Mosca con l'abbraccio di Mosca della chiesa ortodossa con la chiesa cattolica quindi l'occidente se la chiesa ortodossa avesse accettato se la chiesa cattolica no la chiesa ortodossa avesse accettato l'incontro con la chiesa cattolica che la chiesa ortodossa in realtà era il servizio segreto del KGB che si utilizzava la chiesa ortodossa per i suoi affari nel mondo si sarebbe evitata la guerra nucleare questo se invece non ci sarà affatto questo la Russia spargerà i suoi errori perché? perché l'occidente non ha mai voluto veramente fare la pace con l'unione sovietica con la Russia con l'unione sovietica non ha mai voluto fare la pace e lì onestamente c'era un impero comunista c'è ufficialmente non credente quindi le due cose cozzavano quando cade il muro di Berlino è finita la Russia si è convertita niente affatto quando la parentesi dell'ubbriacone Yeltsin termina termina riprende Putin sale al potere la Russia ancora non si è convertita ma non che ha bisogno di convertirsi la Russia è cristiana non c'è stato quella fratella me infatti non c'è stato mai un papa che è andato a Mosca solo papa Bergoglio ci è andato mi pare è andato a incontrarsi all'ambasciata con il fratello con il vesco con il patriarca ortodosso una visita ufficiale a Mosca con i capi di stato Putin il presidente Mattarella il papa e il patriarca russo non c'è stato mai quello voleva la Madonna e lì l'America se il papa va e si abbraccia con Mosca non puoi perché ci sono un miliardo di cattolici e l'assistente Unito d'America che fa i conti con il dollaro non puoi metterti contro 200 milioni di cattolici americani o 150 milioni quindi deve per forza trovare una via d'uscita per evitare la crisi dei missili nucleari crisi che con l'era Gorbaciov si è attenuata e che oggi è ritornato quasi a guerra nucleare quindi non è stato consacrato il cuore immacolato di Maria alla Russia e quindi c'è il pericolo della guerra nucleare la Madonna è triste perché i papi non hanno fatto quello che devono fare le farse che tu consacri la Russia ti consacro la Russia a Roma cioè stai pigliando in giro alla Madonna la consacrazione significa che dovevi incontrarti e abbracciarti con la comunione di Cristo con il patriarca russo e i politici che governano quei paesi quindi alla luce di questo a tua argomentazione che valore dai alla consacrazione zero meno che zero dove è la Russia scusa dove è consacrata se sta per scoppiare la terza guerra nucleare la terza guerra mondiale che il papa papa Francesco ha fatto il 25 marzo del 2022 ha fatto questo ma l'ha fatto per ubbidienza a un per di l'ha fatto per una mossa politica spirituale per dire non mi potete dire che io non ho fatto niente c'è al suo copo di vipere ma in realtà il papa sa benissimo che la Russia si converte solo quando c'è una riconciliazione tra i popoli cristiani due popoli cristiani cioè tu ti rendi conto che la terza guerra mondiale la faranno due popoli cristiani che adorano dicono di adorare a Cristo e si fanno la guerra non è la guerra di Mahometto contro di noi ci hanno riempito per vent'anni la testa i musulmani la terza guerra mondiale invaderanno l'Europa noi stiamo facendo la guerra cristiani contro cristiani e questa è una profezia di Gesù il fratello contro il fratello i padri contro i figli e i figli contro i padri la guerra in Europa Russia Europa e Stati Uniti siamo tutti cristiani quindi ci stiamo ammazzando tra di noi e vogliamo eliminare il mondo dalla faccia della terra e quindi dov'è l'anticristo? in mezzo ai cristiani l'anticristo è cristiano ed è di pelle bianca come valuti già li ho aiutati non troverete un anticristo nero come valuti quindi gli incontri che Putin cioè Putin è venuto in Italia sì e si è incontrato col Papa sì certo come come vedi tu questa mossa di Putin? sì che sta che voleva attendere cioè Putin ha atteso la mano per i suoi interessi politici economici mafiosi tutto quello che vuoi credo a tutto che Putin è il più politico blasfemo della faccia della terra ma certamente fa gli interessi nazionali del suo paese solo i suoi interessi abbiamo notizie di indagini di investigatori che Putin ha detto non la trattativa Putin si è accordato con la mafia quindi peggio la cosa più criminale che possa fare però gli ha detto comando io quindi voi non mi dovete ammazzare poliziotti magistrati non dovete chiedere il pizzo fate il traffico di droga di armi ma qua appena mettete una pedina fuori posto io vi mando in Siberia Kodorovsky il petroliele più ricco del mondo adesso in esilio non muore di fame ma Putin quello voleva alzare la testa 25 anni di Siberia gli ha dato per evasione fiscale si è inventato un reato quindi Putin comanda anche la mafia e il popolo lo ama ma non perché è un santo perché gli dà le pensioni perché c'è il lavoro perché nessuno è in mezzo alla strada perché tutti hanno il riscaldamento il gas la luce non ci sono barboni giusto sbagliato non lo so vai a Mosca e vedi certo c'è tutti i problemi che hanno gli stati del mondo ce l'è anche Putin ma se ancora è lì e la Russia è il paese più rivoluzionario del mondo quando non gli piace qualcuno vedi la rivoluzione bolshevica prima o poi lo fanno cadere è caduto persino l'impero sovietico se al popolo Putin non gli sta più bene lo fanno cadere se ancora è lì è perché al popolo piace non è detto che a me piaccia certamente io me ne andrei in Russia se non avessi la missione che il cielo mi ha affidato qua starei benissimo e senza bisogno di cercare la ricchezza perché lì c'è la cultura c'è la palestronautica l'astronautica ci sono tutte le cose che mi piacciono e c'è pure la cultura cristiana la musica l'arte non ci vado perché voglio stare devo stare qua la mia patria è l'Italia e voglio liberarla dare il mio contributo a liberare dal cancro della mafia e della corruzione il nostro paese questa è la nuova Gerusalemme questa è la nuova Gerusalemme per quanto la odio io sono innamorato della mia nazione che rimane sempre la più bella del mondo a parte il fatto che sono anche di un altro mondo nel senso che sono con la testa per aria comunque Giorgio anch'io critico ferocemente soprattutto certi aspetti del popolo e soprattutto i governanti che sono corrotti e vigliacchi però di fatto io gli ho viaggiato tanto lo stesso devo dire che in nessuna nazione al mondo esiste solidarietà associazioni iniziative solidarie come in Italia assolutamente nemmeno in Europa nemmeno nei paesi europei latini non c'è questo spirito no 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 assolutamente certo perché il nostro il cittadino se gli dai l'informazione ti viene dietro però purtroppo il cittadino viene drogato dalla falsa informazione poi noi di animo siamo buoni siamo solo materialisti perché la chiesa ha fallito la missione in Italia la chiesa doveva educare allo spirito al vangelo alla solidarietà invece è educato alla corruzione alla menzogna alla bugia alla manipolazione quindi la nostra generazione ha fallito i nostri genitori hanno fallito speriamo che la generazione futura non fallisca dipende da noi però certo quindi torniamo al discorso di prima forse la sofferenza fisica aiuterà un risveglio spirituale assolutamente come l'Italia è sempre dal fascismo siamo resuscitati alla grande poi l'America ci ha imposto delle delle regole che bene o male comunque ci hanno dato la libertà se tu mi dici cosa avresti preferito cosa avessi preferito l'Unione Sovietica comunista o l'America l'America perché nella democrazia comunque c'hai uno spiraglio quando c'era l'Unione Sovietica guardavi storto qualcuno scomparivi adesso però la Russia è cambiata tu puoi parlare liberamente non è vero che Putin ha ordinato degli assassini dei giornalisti liberi non ci credo non ci credo perché sarebbe stato stupido uno ordina l'assassinio di un tuo avversario quando è un rivale ma Putin è lì comanda tutto che bisogna di uccidere Anna Polito la nostra sorella bellissima l'hanno ucciso chi vuole Putin che cada che cada certo sarebbe stato un delitto che scriveva sui giornali dove ho 200 milioni di russi 198 milioni sono con Putin e 2 milioni leggevano lei conveniva a Putin che la facesse diventare martire ma anche gli altri oppositori di Putin sono tutti sonvenzionati dall'occidente ma forse anche giustamente ci mancherebbe però le cose le dobbiamo dire come sono certo addirittura esistono le registrazioni di Navalny che si incontra con un agente inglese che gli offrono i soldi ma è logico che sia così perché ma questo è un lavoro di intelligenza che legittimamente deve essere fatto quando tu vuoi abbattere un rivale basta che noi diciamo la verità la verità è questa io però vorrei sapere ma perché non ci facciamo gli affari nostri i nostri belli affari e non gli rompiamo le scatole alla Russia perché perché la Russia è un immenso patrimonio di commercio con l'Unione Europea perché siamo l'eccaculo degli Stati Uniti d'America non c'è niente da fare finché non diciamo agli americani grazie ci avete salvato dalla guerra ma adesso voi fatevi i vostri affari e noi ci facciamo i nostri collaboriamo siamo fratelli ma ognuno a casa sua questa cosa non cambierà mai finché non torna Cristo non cambierà mai però se il potere americano Giorgio uccide quei politici uomini della legge della giustizia che sono a favore di questa idea e ci impongono con la violenza questi politici corrotti d'accordo ma prima quando c'era la guerra fredda non sono d'accordo per niente ma lo potevo capire ma adesso c'è Putin che non è amico mio e Berlusconi nemmeno c'è Putin è diventato amico del più grande imprenditore italiano quindi noi potevamo dare lavoro al mezzogiorno con la Russia no perché noi dobbiamo fare gli affari degli Stati Uniti d'America che sono nella miseria stanno fallendo hanno un sacco di debiti e vogliono essere i sanguisuga come sono sempre state negli ultimi 70 anni di tutto il mondo libero noi siamo liberi l'Unione Europea è una una vecchia balorda stupida che non che non vuole mettere in atto il suo immenso potere economico senza di noi l'America si può solo sparare senza l'industria commerciale perché sono sotto il ricatto i leader sono sotto il ricatto tutte le basi migliori militari le più potenti ce l'ha in Germania che è la prima potenza mondiale economica quindi certo che siamo sotto il ricatto però questa volta la Russia non ci sta e quindi sono guai infatti l'azione che ha intrapreso l'Occidente si è ritorta completamente e la Cina adesso è con la Russia non certamente è con noi esatto che è quello che l'impero inglese temeva più di tutti l'alleanza dei due orienti Russia e Cina guarda a meno che non ci sarà un miracolo e io spero nella Madonna ci sarà la terza guerra mondiale perché l'Occidente non cederà ricordati la frase profetica e anche minacciosa e vera del presidente Ronald Reagan non negoziamo mai con nessuno il tenore di vita dei cittadini americani si era Bush che disse anche Reagan l'ha detto e quindi quindi significa se noi rischiamo una crisi del 29 che il 70% degli americani si sono impoveriti questo non lo facciamo passare più piuttosto guerra sia ma questo non succederà più perché l'America rischia il fallout delle banche guarda che le banche svizzera l'hanno fatto cadere gli americani certo per salvare le loro per salvare per mantenere su la city di Londra che tiene tutti i soldi dell'America falsi perché l'America non ha ricchezza c'è solo la potenza militare il collaterale è quello la più grande potenza militare della storia dell'umanità la possiede gli Stati Uniti d'America ho scritto un articolo parlando del segreto di Fatima dove nel 2022 la spesa più alta della storia della vendita di armi abbiamo superato non mi ricordo 2000 miliardi sì impressionanti che possiamo sfamare la fame e le malattie nel mondo solo con quell'anno e chi batte il record cioè la Russia spende 100 miliardi di dollari all'anno l'America 700 700 miliardi per le spese di armamenti è certo che c'ha l'esercito più potente della storia dell'umanità e vive con quello il dollaro è cartastraccia è ancora la moneta mondiale lo yuan vale 100 volte di più l'euro è il padre eterno per il prodotto interno lordo che abbiamo noi in Europa cioè il dollaro è niente meno della lira vale eppure è lì la moneta principale del mondo perché è sostenuta dalla potenza americana militare è sostenuta dalla minaccia mafiosa che l'America dà al mondo o fate così o ci inventiamo una guerra capisci se l'Europa alza la testa si inventano una guerra contro la Francia l'Italia e la Germania cioè poi col governo fascista ecco sono i nazisti al governo attacchiamo l'Italia subito 3-4-8 Giorgio in tutta questa analisi geopolitica se mi sente la russa mi applaude perché loro sono i più anti americani del mondo e fanno finta di essere il leccaagulo degli americani dicevo questa richiesta della Madonna di consacrare la Russia al suo cuore immacolato che tu hai spiegato in realtà era una grande mossa geopolitica spirituale da parte della Santa Madre ovviamente l'anticristo capiva bene qual era il vero senso e quindi ha tramato per impedire che questo accadesse tentando i papi tutti ha tentato persino Gesù Cristo figurati se non tenta i papi o a me che siamo schiappe magari il papa no però non è Gesù Cristo se ha tentato Gesù Cristo e ha fallito con Gesù Cristo con qualche apostolo invece ha vinto con Pietro ha vinto poi Pietro si è pentito il Signore nella sua misericordia ha perdonato con Giuda ha vinto e con tanti altri uomini consacrati ha vinto anzi con la maggioranza degli uomini consacrati a Cristo il demonio ha vinto ha stravinto tutta la deparavazione del medioevo fino ad oggi appartiene alla chiesa cattolica apostolica romana cristiana io non lo so quando torna Gesù come si incazzerà con la sua chiesa io penso assai assai nell'Apocalisse la grande prostituta che siede sui sette colli fa una brutta fine guarda ritorneranno Gesù Cristo e il Dio di Mosè insieme uno romperà la schiena al popolo eletto e l'altro romperà la schiena al popolo cristiano Giorgio nello sviluppo di tutta la storia di Fatima nel 1935 Gesù apparve a Suor Lucia e le disse non l'hanno fatto faranno la fine del re di Francia riferendosi a Luigi XVI che gli fu tagliato gli hanno tagliato la testa e Gesù dice lo faranno ma sarà troppo tardi secondo te questa frase che il Signore dice a Lucia lo faranno lo faranno cosa? che la consacra la faranno la consacrazione ma Gesù dice sarà troppo tardi cioè la faranno quando ormai non c'è più niente da fare perché magari è scoppiato il primo missile atomico e poi lì tutti se la fanno sotto vanno da Putin riconciliamoci il vescovo il patriarca tutte le russie tutti i vescovi slavi tutte le chiese cattoliche del mondo e cristiane e pentecostali vanno lì per abbracciarsi ma ormai il missile è partito e poi ne riparte un altro quindi troppo tardi troppo tardi tra l'altro vorrei ricordare che il riferimento che il Signore fa a Luigi XVI il re di Francia è perché Luigi XVI consacrò al sacro cuore di Gesù la Francia quando ormai era in galera e lo stavano per ghigliottinare e dice è facile dovevi farlo quando eri re quando stavi bene quindi Giorgio quello che stiamo vivendo adesso questa grave crisi questa guerra sanguinosissima dove comunque stanno morendo migliaia e migliaia di ucraini ma anche migliaia e migliaia di russi so dai numeri che sono cifre sproporzionate c'è molti più ucraini e meno russi perché ovviamente la strapotenza militare russa è gigantesca per quanto la Nato e l'Unione Europea stiano appoggiando quindi questo quadro attuale geopolitico tu lo vedi come una fase finale di questo processo escatologico della profezia di Fatima? Il quadro politico è grave se entro un anno o due anni non si risolve la cosa finisce a guerra nucleare posso sperare in una proroga che apparentemente trovano una tregua una pace che dicono a Zelinski di togliersi da parte perché Zelinski poveretto è un pagliaccio un buffone che sta lì per rappresentare niente e quindi si mettono d'accordo con Putin e fanno una tregua gli danno queste due regioni e si va avanti per altri 4-5 anni ma poi di nuovo ci sarà la crisi del Mediorente l'Iran la Palestina e la Cina che incalza e l'America che troverà altre strade per attaccare la Cina che è il vero nemico per l'America economico e la Cina e quindi questo è quello che può accadere una tregua se invece non ci sarà tregua dobbiamo prepararci al peggio spero di no ovviamente comunque io sono tranquillo perché sono matto vivo nella luna con gli extraterrestri però poi se scendono e prendono solo alcuni ad altri no non mi venite a cercare perché vi dirò ma io sono nella luna non lo so torniamo un po' indietro nella storia Giorgio durante la crisi di Cuba il Papa Giovanni che non rivelò il segreto di Fatima quindi la crisi di Cuba è nell'ottobre del 62 quindi sono già passati quasi due anni due anni dal 1960 che il Papa doveva divulgare però il Papa interviene diplomaticamente cercando di sedare la situazione un tuo commento secondo te in realtà questo Papa alla fine un po' ci credeva al messaggio guarda hanno detto che io hanno scritto giornali nazionali che io ho detto che gli extraterrestri hanno sollecitato Putin a non usare l'armatomica l'armatomica mi hanno deriso ecco sappiamo da testimonianze di servizi di intelligence sia del Vaticano l'hai studiato e l'hai divulgato anche tu che pare che Kennedy abbia degli incontri e Khrushchev hanno delle esperienze diciamo aliene e la cosa si plaga secondo me in questo momento sta succedendo la stessa cosa c'è un invito in qualche modo dal cielo dalla parte della Russia e degli Stati Uniti perché sono queste due le nazioni che comandano di fatto militarmente e quindi c'è una specie di di calma da parte del Pentagono della Casa Bianca e del Cremilino che l'anno scorso c'era ogni giorno si minacciavano Medvedev sparava dei deliri ogni cinque minuti e poi Lavrov li ridimensionava ma il concetto era quello e dall'altra parte il consigliere nazionale di Biden che diceva la terza guerra nucleare moriamo tutti e quindi invece adesso c'è la guerra ma la guerra la fanno per questione di soldi cioè per me non gliene frega niente a Zelensky né a Putin la fanno per mantenere né all'America né a noi tutta una regione una questione politica e di soldi e basta gli ideali non esistono sono tutte farse quindi il Papa fino a stasera gli ha detto alla fine gli ha detto in faccia a Zelensky con le armi non si risolvono i problemi quindi tu pensi che durante la crisi di Cuba questa mano occulta c'è stato un intervento più diretto secondo me adesso ci sono stati segni insomma direttamente verso di lui verso di loro ma a Cuba raccontano ex militari che ci furono delle esperienze sia di Kennedy che di Khrushchev secondo te Giorgio dalle fonti tue chi fu che scrisse la versione cosiddetta diplomatica del segreto di Fatima c'è qualche potere vaticano comunque il Papa stesso non bloccò perché non è stato mai smentito questo testo che è uscito fuori addirittura negli anni 70 persino l'osservatore romano ma per me l'ha scritto Capovilla tu pensi che sia stato lui? sì perché quando sì ne sono certo perché quando io gli faccio la domanda il segreto di Fatima la versione diplomatica che dice no 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 ce la conosco bene per me l'ha scritto lui cioè gli è stato ordinato di scriverlo in quel modo è il cardinale Ottaviani dietro perché il cardinale Ottaviani approva quella versione che era il prefetto del Sant'Ufficio certamente era il Ratzinger che lui conosceva quindi Capovilla all'epoca non aveva un grande potere no però doveva avere un imprimatur no doveva scriverlo si interpreterò scriverlo così 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 e mandalo era il segretario del Papa e mandalo alle ambasciate a tutto il mondo che l'ha fatto uscire una rivista c'è una rivista da quattro soldi ma poi si è diffuso in tutto il mondo e secondo me la parte positiva di quella amministrazione chiamiamola così di Papa Giovanni è stata a farlo uscire di fatto lui non l'ha divulgato ma i suoi più stretti collaboratori la fecero uscire quindi per me il Papa l'hanno avvelenato comunque ma è una mia opinione Papa Giovanni no no è una teoria che gira si perché aveva le intenzioni che aveva Papa Luciani però di Papa Luciani abbiamo un sacco di prove di Papa Giovanni niente figura del 63 c'era la Polaroid figura di che prove possiamo avere già nel 78 si sono acquisite più elementi come vedi Giorgio l'evoluzione della tua missione in questa parte finale che origina Fatima guarda la vedo mi sento felice il mio corpo non ce la fa più come sai però mi sento felice internamente ho sviluppato tanta pena pietà prima avevo tanta rabbia ribellione di giovane ma c'ho tanta sete di giustizia e sono contento perché c'è questo essere che io chiamo Adoniesis che mi parla mi dà dei messaggi ed è un padre per me credo per tutti ma soprattutto per me e che mi ha detto di pregare il suo figlio il Cristo perché chi dobbiamo adorare più che lui stesso mi dice il padre è mio figlio il Cristo e poi mi ha detto anche una frase che forse ti stupirà o stupisce i telespettatori ti do tutto quello che ti serve figliolo per fare per gioire insieme ai tuoi fratelli io sono con voi ma non mi chiedere pace e ristoro perché non l'avrai e quindi io sono qua il padre fisicamente mi sento proprio ho sempre dolori eccetera però dentro sono più felice di quando prima avevo più forza nel sopportare il dolore mi sento più felice adesso perché non c'era questa perché perché no signore sempre perché non c'era perché sono consapevole di essere alla fine della mia missione perché vedo tanti giovani nelle nostre comunità le nostre arche nelle nostre confraternità che prima non c'erano e tanti bambini dove ci sono i bambini e i giovani c'è Dio ecco perché sono contento prima eravamo un branco di vecchi e penso che Dio ci aveva abbandonato con l'arrivo dei giovani artisti e dei bambini che ce ne sono tanti e giovani soprattutto mi riferisco da 0 a 30 anni o a 40 anni massimo allora mi sento tanto felice ringrazio il cielo ancora sono qua e e non ho paura più di niente e di nessuno nemmeno della morte posso fare una battuta su quello che hai detto prima il padre è un po' marchigiano iete a faticare va bene Giorgio il padre finisco con questo il padre è generoso ti dà 100 volte di più di quello che tu hai dato a lui tu dai a lui uno e lui ti dà 100 poi di là gli dai un altro uno e lui ti dà ancora 100 non interviene quando ti perseguitano o ti delegittimano perché il padre dice che la missione nostra è quella di seguire il figlio che è stato perseguitato eccetera però mi ha detto adesso però la croce già ce l'hai ce l'avete e quindi l'hai portata con dignità e con onore quindi attenti a chi ti vuole perseguitare perché io sarò implacabile quindi non è una minaccia è una super minaccia e comunque Giorgio per chiudere lasciatemi in pace fatemi fare il mio lavoro io non disturbo nessuno non truffo nessuno ma non perseguitatemi perché lui ve la fa pagare e questo lo dico lo dico con fraterna misericordi criticatemi non siete d'accordo insultatemi anche non c'è problema ma non cercate di farmi del male perché lui ve la fa pagare in chiusura Giorgio questi segni che tu hai ricevuto a Fatima ancora sono presenti nel tuo corpo io direi proprio di sì lo dico non come domanda come affermazione sì beh ho fatto vedere delle fotografie che in Sud America due volte consecutive hanno sanguinato io sono testimone quindi confermo al pubblico che ascolta questa intervista che i segni non sono mai spariti sono sempre stati nel corpo non li faccio vedere con sensazionalismo però quando c'è questa sanguinazione perlomeno è mio dovere alle comunità alla confraternita di far partecipe di questo segno poi c'è stato qualcuno che ha dubitato delle fotografie che mando ma questo fa parte del gioco va bene come si dice la madre dei cretini è sempre incinta e i parti sono plurigemellari esatto e quindi mi viene un pensiero Giorgio perché cioè io che ti conosco da prima dell'estima a te grazie a Eugenio che mi disse prima di conoscere me vai a incontrare i fratelli Bon Giovanni che io dissi mamme che me ne frega però alla fine ebbi dei segni forti che Eugenio mi profettizzò che mi scioccarono e quindi corsi nelle marche e poi ci siamo incontrati certo e quindi io stesso Giorgio questo segno che tu hai portato e porti nel tuo corpo comunque di fatto ha segnato anche la mia vita le mie scelte grazie tutto quello che ho fatto quindi mi rendo conto la pregnanza di questo segno spiega la tua all'interno del messaggio profetico di Fatima che valore ha il segno è per chi lo sente ed è per me intanto per cominciare certo le porti e poi per tutti coloro che che hanno sensibilità però quello che voglio dire adesso non non rimane non dovete restare perplessi il segno non è quello che sono io veramente quello che sono perché il segno si può truccare con la mente con la psiche con la presenza del demonio il segno sono le opere che faccio quindi sono le opere che avallano il segno e non il segno le opere il segno può le opere senza il segno possono vivere il segno senza le opere no questo è il messaggio che voglio dare quindi non c'è più bisogno che io mostro il segno continuamente prima lo è stato perché era necessario dimostrare che questo giovane è stato prescelto ma non è il segno che dimostra la veridicità della nostra opera sono le opere poi per noi per te ti ringrazio amico mio per me e per tanti di noi il segno è la presenza di Cristo ma quello è un atto di fede che non dimostra niente dimostra solo che tu senti così e chi non lo sente non c'è problema cioè non è giudicato da noi se uno non sente in me la presenza di Cristo assolutamente può far parte dell'opera però quello che io desidero anzi voglio che ognuno che fa parte della nostra confraternità che credere alle opere che faccio e ai messaggi che divulgo se no non ci può far parte poi se il segno devi avere la fede per crederci che in me c'è Cristo io spero che Cristo sia sempre con me ma con la consapevolezza che io sono un essere umano che si può sbagliare che può fare chiamiamoli peccati ma una cosa che anzi che li faccio sicuro è che sicuramente ho fatto degli errori forse anche gravi ma quello che non ho fatto e non farò mai e in tutte le mie incarnazioni non è mai accaduto io non tradirò mai io sono fedele sono amico di tutti ma fedele a uno solo che è Gesù Cristo figlio di Dio grazie Giorgio prego cari amici un altro viaggio che porta luce consolazione speranza in un tempo veramente tanto buio della storia dell'umanità quindi ringrazio di nuovo Giorgio ringrazio a te e a voi ringrazio il pubblico e ci vedremo di nuovo su questi schermi un saluto a tutti grazie grazie grazie